Musica Ben ritrovati a tutti su Torino e Canavese TV, nuova stagione del TG Amici Animali e vogliamo aprirla con uno speciale. Non tutti sanno che nel Torinese esiste un luogo dove i maiali salvati dal macello possono trovare una nuova vita lontano dalla paura e dalla sofferenza. Questo luogo si chiama la piccola fattoria degli animali ed è nata da un sogno, il sogno di Federica che è una giovane donna forte e coraggiosa e soprattutto dotata di tantissima sensibilità ed empatia. E allora andiamola a conoscere da vicino la piccola fattoria degli animali. Tutti o quasi tutti abbiamo un sogno, Federica è qui con noi e un sogno ce l'aveva, un grande sogno, una missione anzi lo definisci e sei riuscita in parte a realizzarlo. È questo paradiso per animali salvati dal macello. Sì, Serenella, in parte è vero, sono riuscita a realizzarlo ma sono all'inizio di un lungo e tortuoso cammino. Questa fattoria è nata nel 2009 con tanta passione e tanti sacrifici ma purtroppo ahimè sono arrivata alla saturazione del posto a disposizione per cui sto lavorando tanto sulle sponsorizzazioni. Sono molto fiduciosa, so che ci vuole del tempo, ci vuole tanta pazienza ma resto positiva. Sono molto fiduciosa che nell'arco di poco tempo ci sarà qualcuno che si innamorerà del progetto e ci darà una mano a costruire qualcosa in più grande e che ci dia anche un messaggio potente perché sai la nostra voce arriva fino a un certo punto. Nel caso in cui io avessi dietro le mie spalle un qualcuno di veramente grande nell'ambito degli animali e dell'ambiente questo fa veramente la differenza e sto aspettando questo e so che arriverà. Sono tutti animali salvati da morte sicura, da una morte atrocia. Ma come nasce questa idea, questa determinazione? È una lunga storia. Sono un'attivista animalista ambientalista da tanti anni. Un viaggio in America negli anni 90 ha totalmente cambiato la mia vita. Sono entrata in contatto con alcuni attivisti del posto i quali erano molto attivi su quello che riguarda il portare consapevolezza nel mondo sui cremini nascosti all'interno di allevamenti intensivi, macelli eccetera. Siamo diventati molto uniti, abbiamo fatto una serie di attività insieme e una notte degli anni 90 in California la mia vita è cambiata. All'interno di un allevamento intensivo sono entrata in contatto con una scrofa. Era enorme Serenella, non poteva alzarsi. Stretta in una gabbia piccolissima sarebbe stata prossima la macellazione, enorme. Le ho messo la mano sulla schiena, lei si è girata e in quel momento c'è stato un incontro di anime. I nostri occhi si sono incrociati e ho visto in quel secondo tutto il suo dolore, tutta la sua agonia, tutta la sua solitudine, il suo terrore e ho detto a me stessa che dopo tutto quello che continuavo a vedere all'interno di quegli allevamenti e dopo quegli occhi dovevo fare veramente qualcosa per aiutare loro che sono alla fin fine considerati gli ultimi degli ultimi all'interno di quella che è una scala alimentare perché la gente si vede il coniglio, vede il cavallo che è carini, vede la capretta che è carini, rimangono più sensibili. Il maiale solitamente nove persone su dieci lo criticano, puzza, è sporco e questo non è assolutamente vero. Per cui decisi quell'anno di fare il possibile un giorno per dedicare un posto a loro. Ci sono arrivata negli anni ma adesso è il momento di darsi da fare e costruire qualcosa di più grande. Che cosa vuol dire vivere tutti i giorni a contatto con questi animali? Noi siamo qui in mezzo a loro, ci girano attorno, sono tranquilli, scodinzolano, non hanno timore dell'uomo. Cosa davvero difficile invece in situazioni di altro tipo. Guarda è meraviglioso, costa tantissimo sacrificio. La gente là fuori non immagina nemmeno la quantità di energia fisica, mentale, economica che ci sia dietro un posto come questo. Sono sogni realizzati in anni, speranze, sacrifici a livello personale, di vita personale. Vivere con loro è meraviglioso perché tu sai molto bene quanto abbiamo e dobbiamo imparare dagli animali. Ti insegnano moltissimo e ti insegnano come in realtà loro con pochissimo vivano bene. Noi abbiamo tutto e siamo perennemente insoddisfatti e frustrati. Sono animali meravigliosi, hanno un grandissimo senso della famiglia, sono intelligenti, sono puliti. Lì vedete sporchi di fango perché in estate loro hanno bisogno di coprirsi di fango per i raggi del sole e per le punture di insetto. Sono socievoli, sono buffi, esprimono un sacco di versi e ogni verso esprime qualcosa. Dalla rabbia al timore, qualsiasi, alla tristezza, alla paura. Sono veramente animali che meritano di essere conosciuti al di là di quello che ognuno sa e che è profondamente sbagliato. Perché noi vediamo solo il salame nel piatto e non sappiamo che al di là di quello c'è un sacco di distruzione. Non soltanto per quanto riguarda gli animali ma anche l'impatto ambientale e la salute. Si sa che la carne faccia malissimo, è inutile dirlo. Qui smettono di essere oggetti sfruttati per il guadagno, smettono di essere numeri perché purtroppo quello sono nella maggior parte dei posti e diventano esseri, hanno un nome, sono i vostri compagni di vita. Caspita sì, è come se veramente vivessimo la nostra vita insieme e fossimo in empatia. Ognuno di loro ha un nome, è vero, lo riconosce perfettamente e il nome gli viene dato per qualche particolare legato al carattere o alla loro storia del passato. Alla fin fine vivi così tanto tempo con loro che entri in simbiosi. Loro sono così tanto in empatia. Ovviamente sono la persona che più se ne occupa, perché sono anche la persona che ha dato vita a questa cosa e gestisce il rifugio e ha maggior carico di dovere e responsabilità. Ovviamente come è giusto che sia. Tu diventi parte di loro e loro diventano parte di te, è un tutt'uno. Di mio sono estremamente socievole, positiva, sorridente, ma ovviamente anche io in i miei momenti in cui sono più riflessiva. Loro sentono tutti i miei stati d'animo. Se sono arrabbiata, qua non puoi entrare. Se sono felice, loro sono felici. Se sono triste, loro sono tristi e mi vengono vicino. Capiscono ogni stato d'animo ed è bellissimo quando ci sono i volontari, sembriamo una famiglia. Una famiglia semplicemente fatta di specie diverse, ma alla fine poi è un tutt'uno, meraviglioso, davvero. Dovresti nasconderti dietro una grata e vedere una domenica, una giornata di volontariato pieno, dalla mattina in cui arrivano i miei meravigliosi volontari, si sta con loro, si pranza insieme, dici, wow, dici là fuori non ci voglio più stare. È vero, meraviglioso. La vostra storia è la dimostrazione che quando si vuole fortemente qualcosa, le cose possono cambiare. È vero, è una piccola realtà, adesso non ci sono tantissimi animali. Il tuo sogno è quello di poter magari creare un vero e proprio santuario per questi animali. Certo, sono una testa dura, sono una testa dura. Forse saranno anche un po' le mie origini tedesche che mi aiutano ad essere testarda, ma ti dico, è una cosa che ho desiderato con tanto sentimento, tanta passione, in mezzo a sacrifici, scelte, tantissime scelte che ho dovuto fare. Ovviamente la vita è fatta di scelte, non sarebbe altrimenti. E poi, Serenella, è una questione per un bene più grande. Del resto, chi ha un minimo di sensibilità, coerenza e coscienza, caspita massà il delirio che c'è all'interno di quei posti. Noi siamo qua per portare un messaggio nel mondo, per dare consapevolezza. Sono un'attivista appassionata, motivata, ma non mi permetto di imporre il mio pensiero. Semplicemente do un messaggio. Faccio capire che al di là della carne esiste del dolore e si dà una possibilità di scelta. È possibile vivere una vita senza grudeltà. Perché tutto questo massacro è ingiustificato? Non è corretto. Hai la scelta vegetariana, vegana, io sono vegana, ma vai all'interno dei supermercati, ti offre qualsiasi cosa da mangiare, dai primi piatti ai secondi piatti, ai dolci. Fuori ogni limite, il cambiamento dobbiamo farlo, dobbiamo portarlo noi. Esiste in prima parte e inizia con noi. Perché il santuario? Perché, come ti dicevo, qua ha saturato lo spazio. Ci sono 21 anime salvate, ma il desiderio è quello di creare uno spazio molto più grande, proprio dedicato a loro, che siano l'icona e ci riusciremo. Sono fiduciosa. Sarà il santuario più grande d'Italia dedicato a questi meravigliosi animali. È dedicato anche ai cenghiali. Io, tra l'altro, sono figlia, purtroppo, di un cacciatore che negli anni non ha mai smesso, mai, 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 mai smesso. Ad oggi mio padre è ancora un cacciatore. Questo ha portato, ovviamente, grandissimi scontri e grandissimi problemi di comunicazione. Gli auguro un giorno, senza imposizione, che si renda conto e faccia un passo indietro e capisca forse che una vita piena di sangue è un delirio. Perché, in effetti, alle volte anche noi ci rendiamo conto che forse il problema è che la maggioranza delle persone sono anestetizzate, in qualche maniera, dai messaggi che arrivano anche dai media, alle volte, dalla vita di tutti i giorni, dalla carta patinata che ti offre un'immagine non naturale di quello che, invece, è la realtà terribile degli allevamenti e della situazione di questi animali. E realtà come la tua possono servire veramente ad aprire gli occhi, almeno a capire, quale sia la realtà, per poi poter fare una scelta consapevole. Perché io dico sempre che chi ha una coscienza, chi ha un'anima, penso possa essere una sola. Certo. Guarda, dicevi giusto che le persone, come se fossero anestetizzate, c'è uno studio dietro le pubblicità. La gente rimane imbambolata. Le multinazionali ci vogliono soli, completamente rimbecilliti. Insicuri, frustrati, paurosi. Perché così è più facile controllarci. Sta a noi fare un passo indietro e dire non ho intenzione di essere un robot e usare la mia testa. Io ho fatto questa scelta. Sono diventata vegetariana a 14 anni e vegana a 30 anni. A novembre faccio 44 anni. So benissimo. Non ho mai avuto problemi. È stata un'idea, una filosofia di vita per un pensiero etico. Fossi indietro farei esattamente tutto quello che ho fatto. Anzi, caspita, alcune volte vorrei che le giornate fossero più lunghe. Spero anche che in Italia ci siano più celebrità, più persone famose che ne parlino. Guarda, io ho molto a cuore gli Stati Uniti, Serenella, dove ho passato gli anni più importanti della mia vita e più di formazione di quello che sono stata io per poi diventare e fare questo. In America hanno moltissimi personaggi famosi che aiutano a dare voce a questa cosa, che sia l'ambiente, che sia gli animali. Adesso io sto parlando di questo perché sono un animalista, ma forse anche per i bambini. È giustissimo aiutare tutti. Semplicemente io aiuto gli animali per vocazione. Ma la giornata fosse fatta di 300 ore farei sia per gli animali, per cui sento questa vocazione, sia per i bambini. È giusto aiutare tutti. Ognuno fa quello che sente. In America è davvero colmo di celebrità che si intrecciano, si incastrano anche con il mondo pubblico e danno veramente una spinta fenomenale a quelli che sono i progetti. Qua manca questo. Qua manca questo, purtroppo. Ma sono fiduciosa che l'Italia si dia un pochino più da fare su questo versante. Ha bisogno di personaggi un pochino più determinati anche a livello di celebrità. Noi ce la stiamo mettendo tutta, noi del movimento. Abbiamo ancora tanto da imparare, soprattutto dall'estero, perché c'è un movimento molto più forte e sanno fare molto più squadra. Però sono fiduciosa, arriva tutto. Ecco, com'è organizzata la struttura? Perché immagino comunque ci siano delle difficoltà anche a gestire tanti animali di questa taglia. E guarda Serenella, avessi ettari, ettari, ettari di terreno, ovviamente avrebbero molto più spazio dove muoversi. Guarda qui, qui vedi terra. Anni fa, quando sono venuta in questo posto, era tutto prato. Il maiale per natura ribalta la terra, quindi non avrai mai il tuo giardinetto. Ecco perché è diventata tutta terra. Sono 21, di cui abbiamo un cinghiale, tre incrociati con i cinghiali. Hanno bisogno di recensioni estremamente forti. Uno, perché se vai nella proprietà altrui rischiano di essere ammazzati. E il mio dovere, la mia responsabilità, il mio buon senso sta nel fatto di tirare su delle recensioni. Infatti è venuta l'asla forestale, è contentissima perché anche un cinghiale non sai mai. Quindi, capisci no? Ecco, bisogna anche mettersi nelle condizioni di tenerli, ma di tenerli nel modo giusto. Sono divisi per i branchi, perché con il veterinario, fin dall'inizio che sono arrivati, cercavamo ovviamente, compatibilmente con lo spazio e tutto, con il buon senso, di inserire in gruppi più grandi. Ma alcuni di loro proprio non si sopportavano. Per cui abbiamo dovuto un po' scegliere in base a simpatie. Adesso capita come tra noi persone, poi loro sono estremamente territoriali. Per cui, come vedi, sono state fatte delle recensioni solide. All'interno delle recensioni c'è ovviamente il loro spazio sulla terra, dove loro possono gruffolare, che è la terra nella quale loro devono stare di giorno, per i loro unghielli, per la loro natura. Hanno le loro pozze d'acqua, indispensabili quando fa caldo, che vengono riempite solo d'estate, in inverno invece le copriamo perché non è necessario. E poi hanno laggiù tutta una tettoia suddivisa in vari box. Ogni tettoia ovviamente ha il suo box, sono tutte coperte di paglia. Con un'antina loro entrano, escono, fanno esattamente quello che vogliono. Se vogliono stare dentro dormono, altrimenti se vogliono escono. E hanno un deor dove si rilassano sulla paglia. Quindi hanno sia la terra, un pochino di cemento e poi tutto il box dentro coperto di paglia. E cosa si può fare per darvi una mano? Anche magari il privato, la persona che ha a cuore questi animali, come può aiutarvi? Sto cercando di ampliare, irrobustire il team dei volontari. Quindi io apprezzo qualsiasi aiuto concreto che arrivi dall'esterno. Se avete voglia di vedere gli animali, di dare un'occhiata, ovviamente ci sarà qualcuno che sarà estremamente incuriosito, potete andare sulla nostra pagina Facebook che si chiama La piccola fattoria degli animali. Questo intendo proprio a dirlo con il cuore. Non siamo un gruppo di animalisti che ghettizza. Io ho dei volontari e degli amici che da anni supportano questo progetto. Stanno con i loro tempi, pian piano, staccandosi dall'alimentazione carnivora. Non imponiamo nessuno di fare una cosa, non farne un'altra. Molto soft. Ognuno ha il suo percorso, è giusto che sia così. Tutti sono i benvenuti, ovviamente ci scrivono. Le visite sono a previ accordo, anche perché ho animali che arrivano dalla polizia giudiziaria, quindi il mio dovere è tutelarli, solo sapere chi arriva in fattoria. Ci si dà una mano a dar da mangiare, a pulire, visite guidate, ci portate del cibo. Come gradite? Ci conosciamo e se vi piace far parte di questa realtà, benvenga. Costruiamo un sogno insieme. Al prossimo episodio